Abbiamo conosciuto Venezia Home tramite passaparola. Quello che ci ha colpito maggiormente è stata l'opportunità di personalizzare sotto ogni aspetto i dettagli del progetto e una volta visti i primi disegni ci siamo accorti che avevamo finalmente trovato la cucina che faceva per noi. Consigliamo Venezia Home a tutti coloro che vogliono arredare in modo unico e creativo la propria casa. Grazie allo staff di Venezia Home! Ciao!